Il Parco di Cavriglia è un'area geologica, archeologica importantissima ormai da numerosi secoli, non soltanto dagli ultimi 40 anni da quando è nato appunto il cosiddetto parco. L'operazione più delicata e più difficile è spostare gli animali in riserve naturali, come diceva il sindaco, dove andranno certamente a stare meglio, l'importante ovviamente è garantire la loro salute, questo ci premeva sottolinearlo, li abbiamo inviati in delle riserve naturali importanti. Ne rimangono alcuni, vedremo come ovviamente affrontare il futuro insieme a loro, nello stesso tempo però è giusto, è doveroso sottolineare il nostro impegno per il recupero del parco come area archeologica fondamentale. Qui erano presenti gli etruschi, erano presenti i romani, ci sono reperti importanti da riscoprire, ci sono sentieri meravigliosi per poter mettersi in contatto sia con il Chianti che con il Val d'Arno. Ecco, ci preme dire che questa amministrazione comunale sta pensando al benessere degli animali e poi ovviamente nel contempo sta pensando a come recuperare quest'area strategica fondamentale per il futuro di Caprini.